Oggi sono in compagnia di un personaggio che ha fatto ridere milioni e milioni di persone è molto simpatico, suona il piano, è sempre brillante, sa essere molto scherzoso ma è anche molto coscienzioso quando si parla di sicurezza stradale. Giorgio Bracardi dove sei Giorgio? Come va? Ciao telespettatori tutti, uomini, donne, bambini. Come va? Bene, bene. Ciao Giorgio, io sono Trachi. Trachi, ciao Trachi. Allora Giorgio tu viaggi molto e allora quando viaggi hai delle idee per come essere più sicuro nel viaggio? Innanzitutto io vedo quando mi fermano gli autogridi sono affollatissimi, soprattutto i camionisti che vanno e si prendono qui i gabaretti di roba, lasagne, falsizie, poi la bella cosa di vino, vai mai fare quello perché ha stomaco pieno e con molto alcol in corpo si guida male, è pericolosissimo.